Lasciato il Kenya, Barack Obama prosegue il suo viaggio in terra africana volando in Etiopia. Un'altra tappa che vanta un primato, si tratta della prima volta in assoluto che un presidente americano visita questo paese. L'arrivo di Obama è stato salutato da una folla in festa, da Disabeba. Il leader della Casa Bianca dovrà ora affrontare un'agenda impegnativa, incontri con il primo ministro e il presidente Etiopi e colloqui incentrati sulla lotta al terrorismo e sulla situazione in Sud Sudan. Obama sarà anche il primo presidente a pronunciare un discorso nel quartier generale dell'Unione africana dove in molti si aspettano che venga toccato il tema della democrazia e dei diritti umani nel paese.